E' già partita da qualche tempo l'organizzazione del nuovo Valbruna Rock and Folk Festival che si terrà a Valbruna il prossimo 30 di maggio, una macchina organizzativa particolare curata nei dettagli, coordinata da Giovanni Martella e Lorenzo Garati che sono nei nostri studi e ringraziamo per parlarci di questo evento giunto alla seconda edizione. Quindi tutto sommato una replica stando anche ai grossi successi e ai grossi risultati ottenuti lo scorso anno. Riporterete 10 band all'interno del territorio di Valbruna per una giornata che si preannuncia anche quest'anno incandescente. Sì, speriamo. Siamo, come ha detto lei, giunti alla seconda edizione e l'anno scorso è andata benissimo. Abbiamo avuto una risposta fantastica sia dalle band che anche dalla gente, dal pubblico che è venuto a sentirci parecchio numerosa. Quindi speriamo quest'anno anche di replicare, di avere un buon successo. Un risultato anche sopra le vostre attese. Non si è rivelato soltanto un festival della musica giovane ma una vera e propria occasione di raccolta per tutti i valbronesi dei paesi limitro. Sì, abbiamo avuto, diciamo che le età sono andate dai più piccoli ai nonni col bambino e passeggino quindi proprio siamo rimasti felicissimi e speriamo che anche quest'anno vada così o magari anche meglio, ce l'auguriamo. Anche perché non vi ponete limitazioni di genere musicale a quanto pare? No, infatti noi abbiamo distribuito la giornata in due, tra virgolette, sezioni. Quella per i giovani, il pomeriggio con i gruppi rock e poi quella per le persone un pochino più mature con la serata danzante che di solito attira di più il pubblico adulto. Infatti c'erano due gruppi, gli intu, i confermati dell'anno scorso, più i quintetto distratto che sono un gruppo nuovo che abbiamo inserito quest'anno e fanno tutte e due musica folk e danzante. Ecco, la formula è quella dello scorso anno, un'intera giornata, dieci gruppi partecipanti. Esatto, sì, abbiamo visto che la formula funzionava, quindi abbiamo detto perché non cambiarla, giusto? Abbiamo lasciato quello, la gente all'anno scorso è rimasta soddisfatta, si sono divertiti il pomeriggio con i gruppi giovani, si sono divertiti la sera con la parte diciamo più folk, quindi abbiamo tenuto sempre la stessa ricetta. Ecco, allora nei dettagli spieghiamo Valbruna Rock and Folk Festival, domenica 30 maggio a partire dalle? Partire dalle 11 e mezza, ci sarà un breve aperitivo come l'anno scorso, poi dalle 2 cominceranno a esibirsi le band, sono più o meno 45 minuti a testa fino alle 8, poi dalle 8 fino alle 9 e mezza ci sarà una pausa in cui verranno premiati dei ciclisti, praticamente ci sarà anche una gara di trial bike, faremo la premiazione di questo contest, ci sarà la sottoscrizione a premi perché comunque metteremo dei premi che esercenti hanno messo a disposizione, poi ci sarà un'esibizione della scuola di percussioni di nota libera di erba e poi dalle 9 e mezza fino a mezzanotte si ricomincerà a ballare e a divertirci. Ecco, i gruppi partecipanti sono stati in parte confermati rispetto allo scorso anno e in parte saranno nuovi? Abbiamo cercato di tenere i gruppi che l'anno scorso erano piaciuti di più, esempio Another Story, oppure anche che abbiamo confermato, i Band Erba che l'anno scorso hanno suonato l'orario di cena e erano piaciuti alle famiglie, poi i Fabulous Filters che nella zona sono tra i più in gamba, quindi abbiamo confermato anche loro spostandoli solamente nel pomeriggio e poi abbiamo portato gruppi giovani che sono, oltre a dire alle storie, che sono poco più di 18 anni, i Gigi e Rei che sono un gruppo del liceo di erba, quindi ospichiamo un pubblico molto molto giovane. Una vera e propria rassegna della musica del territorio erbese e valassinese. Il tutto, abbiamo detto, domenica 30 maggio a Valbrona, dove precisamente? All'area feste di Valbrona, dove c'è di fianco al campo sportivo praticamente. Un altro particolare, un dettaglio non da poco, il ricavato della manifestazione. Il ricavato della manifestazione andrà interamente devoluto all'associazione Action Aid, che si sta occupando sul territorio di Haiti, fanno adozioni e comunque sono intenti sul campo ad operare, quindi i fondi andranno a loro. Valbrona Rock and Folk Festival, seconda edizione, domenica 30 maggio a Valbrona. Grazie e una buona organizzazione a tutti. Grazie a tutti.